Buona domenica 13 febbraio. Il Vangelo di oggi ci porta nel cuore esistenziale del messaggio di salvezza che implica la disponibilità di ciascuno di noi di affidarci non a un demagogo, un capopopolo, a una promessa che promette inimmaginabili scenari di felicità, di ricchezza, di potere. Questo è il modo attraverso il quale il potere costruisce il consenso, l'autoasservimento del popolo. Il messaggio di Gesù è liberante e ci porta nel cuore del cristianesimo, nella sua autenticità, parla di beatitudine e leggendo questo passaggio fondamentale non possiamo non cogliere l'essenzialità e allo stesso tempo la contemporaneità di quel messaggio che è retrodata di duemila anni e che però era già presente in tutto il percorso della storia della salvezza dell'umanità. Perché vedete, beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio, non significa un invito all'alienazione rispetto a un'immagine di un regno mondano collocato nell'alto dei cieli, ma il regno di Dio è qualcosa di molto concreto che accoglie in sé anche la beatitudine della povertà, non della miseria o dell'impoverimento, al quale sono sottoposti tanto i nostri fratelli e sorelle. È una povertà che si apre alla condivisione, alla dimensione dell'amore. Beati voi che ora piangete perché riderete e non riderete in tempi inenarrabili. Il pianto è accolto, la sofferenza, allo stesso tempo affidandoci con fedeltà e fiducia. Al messaggio di salvezza possiamo trovare anche uno spazio di gioia intensa anche nella dimensione del dolore. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome, come infame, a causa del figlio dell'uomo. Ecco, è una persecuzione che nasce dalla fedeltà e dalla fiducia nei confronti del figlio dell'uomo, del figlio di Dio che si è fatto uomo. Non è un capopopolo, lo ripeto ancora e dobbiamo sempre ricordarcelo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché ecco la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. E qui c'è un invito ad accogliere il messaggio profetico, incarnarlo. È decisamente una visione esistenziale che va controcorrente perché di contro poi si affermerà come ci saranno guai a voi ricchi, per voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Gesù, quando tutti, eh scusate, guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi, allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti. E questo è un passaggio, guardate, formidabile. Non dobbiamo preoccuparci qualche volta, qualche volta di trovarci decisamente controcorrente, magari ci considereranno male, ci perseguiteranno, parleranno male di noi, non importa. Se noi saldiamo la nostra esistenza nella fedeltà, quella che ci richiama anche il profeta Geremia, no? Maledetti gli uomini che confidano negli uomini, cioè dell'uomo che confida nell'uomo. Questo non è un atteggiamento avversivo nei confronti dell'altro, tutt'altro, è una necessità di considerare l'altro in una relazione nella quale ci affidiamo. L'atto della relazione diventa, allora sì, trascendenza, mai idolatria nei confronti di un altro essere vivente. È ricchissimo esistenzialmente questo passo del Vangelo, tutti ricordiamo queste beatitudini, ma oggi, soprattutto in questo tempo di crisi crescenti che si susseguono quasi sull'orlo di una guerra. Dobbiamo reinterpretare la nostra esistenza alla luce di queste beatitudini che ci liberano dall'angoscia e dalla paura e ci consegnano a una dimensione esistenziale incarnata nella quale prevale decisamente la gioia e la dimensione dell'amore. Buona giornata a tutti.